Non si sblocca il nodo relativo al futuro dei lavoratori della GTC, la società che ha in gestione i mezzi meccanici verticali del porto di Civitavecchia, alla fine di settembre posta in liquidazione da parte degli azionisti di maggioranza. Il liquidatore non appena nominato aveva avviato come di prassi la procedura di licenziamento collettivo per i dipendenti sulla quale al momento non è stato trovato alcun accordo con le organizzazioni sindacali. In particolare i rappresentanti dei lavoratori lamentano mancate comunicazioni riguardo la tipologia di interruzione del rapporto con la società e soprattutto l'assenza di informazioni specifiche riguardo il futuro. Da tempo si parla del passaggio diretto dei dipendenti, soprattutto presso la compagnia portuale ma anche all'interno di altre imprese del comparto. Al momento però non sarebbero state ancora comunicate le modalità del passaggio e tantomeno il livello o la categoria dove saranno posti i gruisti e il conseguente trattamento retributivo. Una situazione di stallo assoluto dunque che sembra portare inevitabilmente ad un nuovo sviluppo della vertenza, questa volta di carattere strettamente amministrativo. La legge 223 del 1991 che disciplina il licenziamento collettivo prevede infatti un termine di 45 giorni entro il quale si può raggiungere un accordo tra l'impresa in liquidazione e le organizzazioni sindacali in merito al futuro dei lavoratori. Trascorso quel mese e mezzo, qualora non sia stato trovato alcun accordo in sede sindacale, decorre un altro periodo di 30 giorni entro i quali la vertenza deve essere risolta in sede amministrativa attraverso la mediazione dell'assessorato regionale al lavoro. Visto che il termine dei 45 giorni per trovare l'accordo sindacale è ormai in via di scadenza, tutto lascia ritenere che il futuro dei lavoratori della GTC sarà oggetto di confronto direttamente alla Regione Lazio dove, secondo quanto previsto dalla legge, dovrebbero essere proposte soluzioni alternative finalizzate al raggiungimento di un accordo.